Operazione Sport Amiche e amici di Operazione Sport ben ritrovati al consueto appuntamento dedicato al mondo del calcio dilettantistico quest'oggi in particolare ci occuperemo non solo di calcio a 11 ma anche di futsal e quindi di calcio a 5 andremo a vedere un po' di risultati ma andremo soprattutto ad ascoltare le impressioni dei nostri ospiti per la Morrone Cosenza quindi parliamo d'eccellenza calabrese, tornato a trovarci quest'oggi ovviamente in maglia a Maranto il calciatore David Guayet Ciao David Ciao Cristian, ciao a tutti Bentornato Per il mondo del calcio a 5 invece quest'oggi parliamo di serie A2, Girone C e di Real Roget quest'oggi ospite per la formazione bizantina invece Gustavo Menini Ciao Gustavo e benvenuto alla nostra trasmissione Ciao Cristian, grazie a tutti, buona serata a tutti e noi iniziamo subito con il vedere proprio in eccellenza cosa è successo in quest'ultimo turno si giocava per l'esattezza la giornata numero 8 iniziamo proprio dalla vittoria della Morrone su un campo difficile David come quello di Soriano certamente una trasferta difficile vinta per 2 a 1 in questa trasferta non hai segnato però anche quest'anno così come lo scorso anno ti stai togliando le tue soddisfazioni con una con una società in una squadra molto ambiziosa dobbiamo dire Siamo una squadra molto ambiziosa e pure giovani quindi abbiamo una società che è proprio in gamba che ci crede con questo progetto che ci hanno che siamo tutti comunque giovani che comunque l'anno scorso hanno fatto qualcosa e cercano di fare una squadra con certi grandi come Leta come Granato, come Baciglieri che sono intorno a noi quindi stiamo facendo bene cerchiamo di e speriamo di andare ancora più avanti così Certo anche perché il campionato è solo all'inizio dicevamo della gara di Soriano che gara è stata e che impressioni hai avuto da questa sfida? È stata una partita molto difficile però l'abbiamo preso con il PDU giusto perché sapevamo che loro avevano bisogno di vincere perché hanno bisogno di punti che sono messi un po' malamente però si sa che per una squadra per salvarsi devi vincere le partite in casa e per uno fare una campionata importante bisogna sia fare punti fuori casa e fare punti in casa e quindi siamo andati là e abbiamo fatto una bella prestazione anche se potevamo fare meglio là davanti è capitato certe occasioni che potevamo fare di meglio però l'importante è che abbiamo vinto e poi il portiere è stato bravo pure che ha parato un rigore Certo, partita comunque difficile soprattutto come diceva Davide sui campi dove sono in palio poi punti salvezza per le squadre che devono lottare per la permanenza in questo campionato Morrone che ha 14 punti come l'isola caporizzuto di mister Mancini che ha pareggiato in casa contro il Sersale e il Sersale che di punti ne ha 15 come il Locri in testa il San Luca e la Reggio Med è una classifica davvero cortissima, seguono poi a ruota Scalea 13, Vigor e Trebisaccio 10 una classifica davvero molto corta e con il Trebisaccio che ieri ha fermato proprio il San Luca su un risultato abbastanza ricco di reti per 3 a 3 torna a vincere la Vigor sullo Scalea per 1 a 0 il Sambiase invece impatta sul campo del Locri per 1 a 1 Reggio Med che invece vince sul campo del Bocale per 1 a 0 campionato davvero molto avvincente perde invece la Paolana sul campo della Bovalinese e vedremo poi tra poco con Davide altri spunti su questo torneo intanto andiamo ad aprire il mondo del calcio a 5, questa Serie A2 Real Roget, squadra imbattuta, Gustavo, siete reduci dall'ennesima vittoria e soprattutto siete a un sol punto dalla capolista Melilli insomma avete un ruolino di marcia molto molto importante fino a questo punto della stagione Sì, siamo imbattuti ancora, tre vittorie e due paregi in questi due paregi abbiamo fatto la partita cioè meritavamo anche altri sei punti però va bene, è inizio stagione, è normale le prime partite ancora le gambe sono un po' diciamo un po' non sono sciolte, imballate, la squadra sono arrivati giocatori nuovi quindi va bene, va bene così siamo nella strada giusta a meno una dalla prima e come ha detto tu abbiamo imballato una bella marcia adesso In attesa della condizione fisica migliore almeno questo riusciamo a capire dalle tue parole questa squadra può avere grossi margini di miglioramento perché ci sono giocatori importanti cinque addirittura gli italo-brasiliani una società alle spalle con il DG anche Madeo che coordina un po' le manovre un allenatore con esperienza come mister Tuoto ci sono a nostro avviso tutte le possibilità per crescere e continuare a fare bene Esatto, hai detto tutto eravamo già una squadra già ben organizzata già centrata poi sono entrato è entrato il direttore nuovo è entrato un altro presidente quindi hanno rinforzato di più come hai detto tu hanno esperienza già con il Corigliano Serie A niente abbiamo tutto per fare bene siamo nella strada giusta e come hai detto tu il margine di crescimento di questa squadra ancora deve deve no migliorerà sicuramente Che campionato è questo di Serie A2? Che idea ti sei fatto a vedere le dirette avversarie oltre a Real Roget e al Melilli? Che campionato è quello di quest'anno? Allora io conosco bene questo gironio anche quasi tutte le squadre che ormai già sono da due anni nel sud di qua secondo me quest'anno è equilibrata c'è una squadra che va a stravincere e gli altri al mio parere sono tutti allo stesso livello quindi campi difficili come a Rutiliano siamo andati a Melilli campi piccoli con i tifosi però abbiamo esperienza abbiamo giocatori di esperienza che possono sopportare questo tipo di partite Ecco prima a microfoni spenti dicevamo abbiamo oltre a te Gustavo anche giocatori come Bavaresco come Soso e insomma tutti i giocatori di una certa esperienza però ci sono anche altri altri giocatori italiani che hanno esperienza in questi campionati che possono comporre il resto del gruppo proprio per fare la differenza esatto hai detto tutto abbiamo De Luca che ben conosciamo conoscete bene da Serie A esperienza Arcidiaconi che in questi anni è cresciuto tantissimo poi un mix con i giovani ci sono giovani interessantissimi con noi secondo me abbiamo tutto con l'esperienza con i giovani con una dirigenza alle spalle che ti dà tranquillità siamo nel cammino giusto poi torneremo a proposito di società e piazza per capire altri spunti di questa società molto ambiziosa come il Real Roget intanto torniamo alla Morrone Cosenzi a David si diceva appunto si parlava poco fa di società quanto è importante anche in casa Morrone l'organizzazione societaria in chiave poi staff tecnico e quindi giocatori di sicuro posso dire che con due mesi che sono passati con tre mesi con il ritiro che abbiamo una grande società che ci seguono tanto e che sono bello organizzate perché si vede come è gestito bene la Morrone ci seguono dappertutto ci danno pure tranquillità perché come lo sapete non è che abbiamo tanti tifosi che sia la Cosenza però comunque loro ci danno tranquillità sono serie ci fanno vedere comunque perché gli allenamenti ogni giorno ci sono ci vedono ci incoraggiano a fare bene a cercare di di fare tutto con tranquillità poi sapevamo che all'inizio siamo partiti bene abbiamo iniziato come abbiamo perso la partita a San Luca e poi a Scaleia una brutta sconfitta però loro sono sempre stato vicino e poi si è visto come abbiamo reagito come squadra lo staff lo spogliatoio come si vive lo spogliatoio su te più che altro un mix di giocatori riconfermati e nuovi anche il tecnico molto esperto del calcio dilettantistico che spogliatoio si è creato Davide quest'anno alla Morrone allora posso dire che comunque con lo spogliatoio che abbiamo noi si vive proprio davvero bene poi abbiamo dei grandi come Letta Baciglieri Granata comunque siamo scherzosi diciamo che siamo sempre là con le battute quindi le partitelle a giocarci qualcosa e quindi si sta davvero bene poi come per il mister che comunque si aspettano tanto di noi che sia tatticamente di essere concentrato come come vuole giocare lui visto che c'è un piano di gioco e quindi tutto per il momento sta andando bene e speriamo che si continua così anche perché come dicevamo prima la classifica è corta delle squadre affrontate finora Davide c'è una più delle altre che ti ha impressionato allora direi la prima contro Sambiase perché hanno fatto davvero un bel gioco che quindi è stata una partita anche se è finito 0-0 che abbiamo 0-0 il pareggio abbiamo fatto una grande partita entrambe le squadre e sicuramente c'è stato pure San Luca con cui abbiamo perso però anche se il pareggio si stava però hanno dimostrato di essere una bella squadra e la classifica aumenta si sono primi certo sono primi insieme alla Reggio Med altra squadra che era partita alla vigilia di questo torneo con i favori del pronostico siete però protagonisti anche in Coppa se non ricordo male in Coppa Italia di Lettanti Calabria sì in Coppa siamo ancora ai quarti la società ci cene tanto lo sappiamo e quindi siamo un gruppo di giovani almeno se uno ci può dire che non abbiamo l'esperienza sappiamo che possiamo dire la nostra in un altro modo e quindi siamo consapevoli delle nostre qualità e cerchiamo di giocarsela con tutti e comunque è una bella esperienza giocarci questo Coppa quella quarta di finale è andata è andato bene però sappiamo che c'è pure un ritorno e speriamo bene certo il risultato poi del ritorno resta aperto anche se avete fatto molto bene se non ricordo male a Sersale nella sfida ad andata e in palio c'è la qualificazione alla semifinale prima di di tornare al calcio a 5 andiamo a vedere ciò che è successo invece nella promozione girone A dove la rossanese continua a vincere adesso si porta a quota 17 punti vince sul campo del Cutro in testa sempre il Belvedere che non non sbaglia in questo in questa giornata vince sul campo della Garibaldina a 20 punti tra Belvedere e il rossanese troviamo invece il Praia Tortora Praia altra squadra ambiziosa per la prima piazza e Praia Tortora che sarà anche avversaria della rossanese nella prossima giornata e poi per il ritorno anche qui di Coppa ieri intanto il Praia ha vinto 1 a 0 sulla Promosport perde invece il Cassano in casa per 2 a 0 sul San Marco il cambio allenatore non fa bene alla formazione del Cassano torna a vincere invece la Juvenilia sul campo della Caccurese per 2 a 0 buon pareggio per rimanere Schiavonea sul campo comunque difficile della Mantè un punto salvezza anche qui comunque la classifica resta corta non vince e invece in questo turno l'Acri sul campo del Real Sant'Agata il Sanfili piega il Rogliano per 2 a 1 anche qui la classifica vi ricordo comunque dopo l'ottava giornata è ancora corta e può succedere certo fa a ben vedere la Juvenilia Rosetta ancora protagonista dietro il gruppo Belvedere Praia Rossanese Acri si porta lì a quota 12 punti con la meta salvezza da raggiungere anche qui al più presto per i ragazzi di mister Davide Falcone torniamo invece al campionato di Serie A2 anche con Gustavo Menini Gustavo dicevamo della società ma anche una piazza come quella dell'area urbana di Rossano che ormai da anni è votata al calcio a 5 in questi anni ricordiamo l'Odissea Rossano adesso il Real Roget che vuole proporsi per campionati importanti da vertice è una piazza che comunque vi segue costantemente nelle gare casalinghe sì prima con l'Odissea tanti anni una tradizione peccato che non c'è più ora il Real Roget che viene da questi anni già viene con una voglia di fare bene di arrivarci prima prima possibile in Serie A che lì è il sogno di tutti anche per il pubblico quando fai una Serie A è diverso però comunque ci stanno seguendo l'anno scorso nei play-off è stato bellissimo c'era tanta gente la piazza si sta bene si sta respirando calcio a 5 mano a mano cresce e speriamo di prima possibile portare questa piazza in Serie A che è il sogno di tutti ecco un sogno importante ma anche come abbiamo detto prima una programmazione a livello societario sono stati ingaggiati giocatori importanti se proprio dobbiamo dirla tutta qual è la vostra principale antagonista in questo torneo le squadre insomma partite con i favori del pronostico guarda sempre sono partiti prima il Cassano che l'anno scorso hanno fatto pure loro la finale i play-off c'è una rosa piena di giocatori con esperienza giocatori forti non sono partiti bene quest'anno però già si sono ripresi un po' c'è stato il Bisignano che ha fatto un calcio mercato interessante poi non sono partiti bene però il campionato è ancora all'inizio quindi è normale che alcune squadre a volte sbagliano all'inizio però poi il Melilli non dico una sorpresa perché il Melilli ha questo gruppo da tanti anni sono sempre gli stessi quest'anno hanno preso giocatori di serie A che hanno fatto un mix interessante sono partiti a razzo e niente per me è ancora tutto equilibrato però io lo so della nostra forza io so di quello che siamo capaci se noi facciamo il nostro se tutto va al verso giusto sicuramente siamo una squadra molto accreditata tu dicevamo prima microfoni spenti sei da addirittura 15 anni qui in Italia qual è stata ecco la crescita di questo movimento futsal del calcio 5 anche perché tu sei italo brasiliano ci puoi confermare che in Brasile c'è una sorta di selezione naturale da bambini tra calcio a 5 e calcio a 11 quindi si parte con il calcio a 5 e poi i giocatori vengono così scelti o per il futsal o per il calcio a 5 venendo proprio dal mondo brasiliano che differenza hai notato e che crescita ha avuto l'Italia in questi 15 anni che hai osservato tu da vicino sì in Brasile partiamo sempre prima con il calcio a 5 poi piano piano va devi scegliere o a calcio a 5 o a calcio a 11 tanti vanno a giocare a calcio a 11 l'altro a calcio a 5 e in Italia in 15 anni si è vista una crescita molto grande si è visto questo importantissimo con questo mix di stranieri con con gli italiani che sono sono cresciuti tantissimo ora la nazionale italiana più del 50% sono già italiani secondo me è stata una cosa interessante portare gente che già giocava da 5 o 6 anni che è la nostra abitudine siamo fatti così secondo me è stato un mix interessantissimo il movimento del calcio a 5 è cresciuto parecchio si è visto anche con i risultati come dicevi tu anche della nazionale passiamo invece al vostro prossimo turno dicevi poco fa non ci sono partite semplici perché soprattutto in questo inizio di campionato tutte le partite possono essere possono nascondere delle insidie come vi preparerete questa settimana e che avversario vi attende alla fine di questa settimana in Serie 2 allora andiamo a affrontare il Real Cefalù una ex miglia squadra prima di venire a Rogeti un campo difficilissimo dove per vincere deve anche loro quest'anno erano un nome importante per vincere anche il campionato sono partiti mali hanno perso l'ultima hanno pareggiato la penultima quindi saranno avvelenati un campo duro difficile e niente il mister sta facendo preparare al massimo la squadra purtroppo non ci sarò ho avuto un infortunio nel collaterale spero di rientrare più presto sei l'unico diciamo tra gli indisponibili oppure c'è da recuperare qualche altro giocatore no Castro Giovanni che è un ragazzo interessantissimo non gioca perché è stato espulso l'ultima partita però comunque abbiamo una rosa quest'anno cioè interessante non è che mancherà esperienza quello sì però loro sono pronti per entrare e fare bene ovviamente andiamo a vedere anche che turno attende in eccellenza invece la Morrone che tornerà a giocare in casa contro il Cotronei a proposito poi vogliamo ricordare anche dove giocate le vostre gare interne Davide le gare interne giochiamo a Popilbianco vicino il carcere di Cosenza e quindi in casa stiamo facendo i punti pieni quindi dobbiamo continuare così e essere sempre concentrati che sfida ti aspetti Cotronei che quest'anno non sta vivendo un bel avvio di campionato sembra sulla carta una sfida agevole ma forse sono proprio queste partite che nascondono poi anche qui delle insidie sono dei partiti pericolosi perché si vede la classifica vedi così pensi che sarà una partita facile e poi invece verranno qui avvelenati e avranno fame per portare i tre punti perché sono partiti male sono un grande squadra pure che l'anno scorso hanno fatto un ottimo campionato poi sono giocatori pure esperti quindi giustamente dobbiamo essere concentrati allenarci bene la settimana e cercare di continuare con l'ispire positivo che stiamo facendo e di vincere le partite per continuare così Tutti a disposizione o ci sarà da recuperare in questa settimana qualche giocatore? No ci sono tutti i giocatori che rientrano penso Mazzei che si era fatto male alla Coppa che è un giocatore importante pure c'è pure l'Eta che rientrano ormai penso che per il mister si saranno tutte a disposizione e sarà bella problemi d'abbondanza per poter accedere la formazione sarà un mal di testa per lui però sarà un bene per la Morone meglio i problemi d'abbondanza come diceva qualcuno che è giocatori infortunati o squalificati ma ovviamente poi il tecnico Stranges avrà modo di valutare bene in settimana anche durante gli allenamenti quale sarà l'undici da spedire in campo prima dei saluti vogliamo aprire una parentesi sulla serie D si è giocata la non aggiornata è tornato a far risultato il Corigliano che ha pareggiato in casa contro il Savoia a margine di una sfida comunque difficile la squadra di mister De Sanza è riuscita a inanellare un punto che la tiene comunque nella parte bassa della classifica e oltre al Corigliano anche il Castrovilla ripareggia sul campo di Roccella in una sfida tutta calabrese anche Castrovilla e Roccella comunque muovono piccoli passi nella classifica della fascia calda e un campionato ovviamente dove il Palermo sta facendo un torne a sé perde anche la città novese un'altra squadra calabrese per 1-0 in casa contro il Troina Corigliano dove si attendono sempre efficaci risvolti societari per capire quelli che potrebbero essere poi il cammino futuro della formazione bianca-azzurra da qui e per il proseguo siamo soltanto anche in questo caso nella primissima parte del campionato e vedremo quali e se ci saranno appunto i risvolti tanto attesi dalla piazza intanto andiamo a ringraziare i nostri ospiti ringraziare faremo un grosso in bocca al lupo a Davide Guaiei per la morrone grazie ancora David Crepe Lupo e grazie per l'invito Cristiano e a Gustavo Menini del Real Rogit grazie ancora Crepe Lupo grazie a voi noi ci ritroveremo nella prossima puntata per scoprire quelli che saranno ovviamente i risultati del prossimo turno ma anche per ascoltare le voci dei protagonisti e dei nostri prossimi ospiti qui in studio grazie ancora a voi e a presto operazione sport in collaborazione con